Primo incarico da prefetto per Clemente Dinuzzo, insediato a Rovigo il 9 agosto, arriva ad Ancona dove è stato vice prefetto vicario. Il Veneto è una terra che già conosce. Il Veneto è la regione in cui ho iniziato la mia carriera in Ministero dell'Interno, a Belluno. Molte le problematiche territoriali che il nuovo prefetto si troverà ad affrontare, criminalità organizzata, disagio giovanile, ma anche l'impegno a preservare l'ecosistema polesano fatto di acqua e di terra. Un'attenzione particolare andrà a tutto quello che non funziona nel campo del lavoro. Rivolgeremo particolare attenzione sicuramente al tema della sicurezza sul lavoro, alla lotta al caporalato recentemente. C'è stata un'operazione molto importante e sicuramente continueremo ad attenzionare questo fenomeno per la sicurezza e la dignità dei lavoratori. 24 le aziende agricole passate al setaccio dalla Task Force Anticaporalato dopo decine di segnalazioni di sfruttamento e lavoro nero. Tanto lavoro da fare e una prefettura a disposizione di tutte le rappresentanze della società. Chiedo il contributo di tutti per ritrovare un senso di unità e di partecipazione che è fondamentale in questo periodo particolare per superare questa grave emergenza sanitaria e al contempo economica.